Papa Francesco, Angelus, 7 novembre 2021, 32esima domenica del tempo ordinario La scena, descritta dal Vangelo della liturgia odierna, si svolge all'interno del Tempio di Gerusalemme. Gesù guarda, guarda ciò che succede in questo luogo, il più sacro di tutti, e vede come gli scribi amino passeggiare per essere notati, salutati, riveriti, e per avere posti d'onore. E Gesù aggiunge che divorano le case delle vedove, e pregano a lungo per farsi vedere. Nello stesso tempo i suoi occhi scorgono un'altra scena. Una povera vedova, proprio una di quelle sfruttate dai potenti, getta nel tesoro del Tempio tutto quanto aveva per vivere. Così, dice il Vangelo, getta nel tesoro tutto quanto aveva per vivere. Il Vangelo ci mette davanti questo stridente contrasto. I ricchi, che danno il superfluo per farsi vedere, è una povera donna che, senza apparire, offre tutto il poco che ha. Due simboli di atteggiamenti umani. Gesù guarda le due scene. Ed è proprio questo verbo, guardare, che riassume il suo insegnamento. Da chi vive la fede con doppiezza come quegli scribi, dobbiamo guardarci per non diventare come loro. Mentre la vedova, dobbiamo guardarla per prenderla come modello. Soffermiamoci su questo. Guardarsi dagli ipocriti e guardare alla povera vedova. Anzitutto guardarsi dagli ipocriti. Cioè stare attenti a non basare la vita sul culto dell'apparenza, dell'esteriorità, sulla cura esagerata della propria immagine. E, soprattutto, stare attenti a non piegare la fede ai nostri interessi. Quegli scribi coprivano con il nome di Dio la propria vanagloria. E, ancora peggio, usavano la religione per curare i loro affari, abusando della loro autorità e sfruttando i poveri. Qui vediamo quell'atteggiamento così brutto che, anche oggi, vediamo in tanti posti, in tanti luoghi. Il clericalismo, questo essere sopra gli umili, sfruttarli, bastonarli, sentirsi perfetti. Questo è il male del clericalismo. E' un monito per ogni tempo e per tutti, chiesa e società, mai approfittare del proprio ruolo per schiacciare gli altri, mai guadagnare sulla pelle dei più deboli, e vigilare per non cadere nella vanità, perché non ci succeda di fissarci sulle apparenze, perdendo la sostanza e vivendo nella superficialità. Chiediamoci, ci aiuterà, in quello che diciamo e facciamo, desideriamo essere apprezzati e gratificati, oppure rendere un servizio a Dio e al prossimo specialmente e più deboli. Vigiliamo sulle falsità del cuore, sull'ipocrisia, che è una pericolosa malattia dell'anima, e un pensare doppio, un giudicare doppio, come dice la stessa parola. Giudicare sotto, apparire in un modo, e ipo, sotto, avere un altro pensiero. Doppi, gente con l'anima doppia, doppiezza dell'anima. E per guarire da questa malattia, Gesù ci invita a guardare alla povera vedova. Il Signore denuncia lo sfruttamento verso questa donna, che, per fare l'offerta, deve tornare a casa priva persino del poco che ha per vivere. Quanto è importante liberare il sacro dai legami con il denaro! Già Gesù lo aveva detto, in un altro posto. Non si può servire due padroni, o tu servi Dio, e noi pensiamo che dica, o il diavolo. No, o Dio o il denaro. È un padrone, e Gesù dice che non dobbiamo servirlo. Ma, allo stesso tempo, Gesù loda il fatto che questa vedova getta nel tesoro tutto ciò che ha. Non le rimane niente, ma trova in Dio il suo tutto. Non teme di perdere il poco che ha, perché ha fiducia nel tanto di Dio, e questo tanto di Dio moltiplica la gioia di chi dona. Questo ci fa pensare anche a quell'altra vedova, quella del profeta Elia, che stava per fare una focaccia con l'ultima farina che aveva e l'ultimo olio. Elia le dice, dammi da mangiare, e lei dà, e la farina non diminirà mai, un miracolo. Il Signore sempre, davanti alla generosità della gente, va oltre, e più generoso. Ma è Lui, non l'avarizia nostra. Ecco allora che Gesù la propone come maestra di fede, questa Signora. Lei non frequenta il Tempio per mettersi la coscienza a posto, non prega per farsi vedere, non ostenta la fede, ma dona con il cuore, con generosità e gratuità. Le sue monetine hanno un suono più bello delle grandi offerte dei ricchi, perché esprimono una vita dedita a Dio con sincerità, una fede che non vive di apparenze, ma di fiducia incondizionata. Impariamo da lei una fede senza orpelli esteriori, ma interiormente sincera, una fede fatta di amore umile per Dio e per i fratelli. E ora ci rivolgiamo alla Vergine Maria, che, con cuore umile e trasparente, ha fatto di tutta la sua vita un dono per Dio e per il suo popolo. Grazie.